E' una mella, è una mella, verrà imbalzamato. No, si prende ora. Non si è secco. No, non si taglia via la pelle. Il prossimo anno è rinunciuta. Possiamo riprendere. Spendiamolo, spendiamolo sui pelli. Sì, dove è? Sì, dove si chiesse? Sì, dove è? Cosa? No. No, quello che fezzottura è che un gara. No, quello che fezzotti è che un gara. Grazie.